Tanto grazie, io devo ringraziare molte persone perché per mettere insieme un torneo come questo serve la disponibilità di tutti, la disponibilità di chi è andata a cercare, chi ha voluto starci vicino, non mi piace chiamarti sponsor ma penso che sia gente che ha sposato quello che è il nostro percorso, percorso che è legato per forza alla fondazione e che vede nel torneo, nel torneo di calcio diciamo il nostro fiore all'occhiello. Siamo arrivati all'undicesima edizione e devo dirti che l'impegno profuso da tutti quelli che hanno contribuito a mettere in piedi questa struttura è stato enorme, li devo ringraziare e adesso aspettiamo che venerdì, ci auguriamo che il tempo sia clemente e venerdì di vedere sempre questo torneo che a livello calcistico è sicuramente di alto spessore, ci sono squadre importanti, squadre che hanno fatto del loro settore giovanile il punto di forza per cui tutti gli anni abbiamo la possibilità di vedere dei ragazzotti che poi dopo come Borini oggi magari tra qualche anno vestiranno la maglia della Nazionale. Grazie a tutti!